Approvato dalla quarta commissione dell'ARS il piano regionale dei rifiuti redatto dall'assessore regionale Alberto Piero Bon. Lo annuncia la presidente della commissione Giussi Savarino. L'approvazione odierna del piano regionale dei rifiuti commenta da uno strumento attraverso il quale conoscere e monitorare i flussi dei rifiuti così da poter progettare e realizzare l'impiantistica necessaria a chiudere la filiera con lo smaltimento in modo trasparente ed efficace privilegiando il riutilizzo dei materiali recuperati. Abbiamo inoltre approvato una riscrittura del governo sul DDL rifiuti che adesso tornerà in aula sciogliendo giuridicamente tutte le perplessità segnalate. Sono molto soddisfatta del nostro lavoro in commissione. Abbiamo lavorato in maniera certosina con pazienza e coinvolgendo ed ascoltando veramente tutti dentro e fuori il palazzo. Sono orgogliosa di dire che già metà mandato abbiamo toccato temi importanti e fondamentali per i siciliani tra cui rifiuti, urbanistica edilizia, plastic free, depurazione delle acque. Il centro-destra non si smentisce mai e va avanti con imboscate, toccate, fuga. È successo anche in commissione ambiente all'Ars. Non abbiamo partecipato al voto sul piano rifiuti perché avevamo chiesto di votare martedì prossimo per approfondire le circa 500 pagine del piano rifiuti. Ma le nostre richieste non sono state accolte. Ancora una volta il centro-destra anziché fa prevalere la logica della condivisione ha fatto valere quella del braccio di ferro. Bisognava eseguire gli ordini di approvazione immediata. Non vorrei essere profetico ma questo piano rifiuti non sta in piedi. Lo dichiara il deputato e segretario regionale del Partito Democratico siciliano Entoni Barbagallo che conferma tutte le criticità già manifestate sul piano rifiuti presentato dal governo musumeci.